Per il ciclo dedicato alle iniziative interessanti, oggi parliamo del MIR, il Music Inside Rimini. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina. Il MIR di Rimini è la fiera del settore dedicata all'audio, a luci, agli spettacoli, agli allestimenti, anche ai video, e anche al settore DJ, è l'erede del vecchio Sib, la fiera che includeva anche le biblioteche e quindi anche gli allestimenti per i locali. Il Sib è stato per molti anni un appuntamento fondamentale per tutti gli operatori del settore, per chi lavorava nei locali. Era anche una partnership importante da parte del Sib, il sindacato e comunque l'associazione degli operatori del settore della vita notturna. Poi, complice sia la crisi delle grandi discoteche che la crisi delle grandi fiere, l'evento per alcuni anni non si è svolto. Dopodiché, sempre nello spazio fiere di Rimini, è nato il MIR. Il MIR è molto orientato sugli operatori tecnici del settore, quindi tutte le novità sugli impianti audio, le nuove casse, le nuove soluzioni, le luci, teste mobili, eccetera eccetera. Ci sono tutta una serie di dimostrazioni nei vari spazi, tipo gli artisti che suonano e fanno sentire la loro performance su impianti diversi, le novità in maniera di mixer, eccetera. Ci sono quindi un po' tutti i vari stand dei principali marchi che operano nel settore audio. Ci sono poi anche quelle che sono più gli spazi dedicati ai DJ, quindi lo spazio di Pioneer DJ che quest'anno organizzava delle conferenze molto interessanti e anche la Pioneer stessa che ha deciso di dedicarsi in maniera molto aggressiva, se vogliamo, al settore degli impianti e degli allestimenti dei locali. Durante la fiera ci sono alcuni appuntamenti con degli ospiti importanti. C'è stata la performanza di Cesario di Elio Leffretese, c'è stata una talk su musica, business e nuove tecnologie riguardanti ai DJ con Coccoluto, Alex Neri ed altri ospiti importanti. C'è stata poi la conferenza dedicata ai tips e tricks per DJ con Ru DJ, al quale ho avuto il piacere di partecipare, organizzata anche da Max Monti e Alex Noscera della Music Academy di Rimini, in collaborazione con Pioneer DJ. Tutta una serie di appuntamenti interessanti anche per gli amanti della musica, più da discoteca, elettronica e quant'altro. Anche se, devo dire, questa parte è molto limitata nell'ambito della fiera e di tutti gli appuntamenti presenti al Mir. Una particolare menzione se la merita la performanza organizzata Waves & Co., che è un'azienda molto importante nelle soluzioni di headwall e allestimenti per spettacoli. Una bellissima coreografia di One Thousand Dance e, soprattutto, il nuovo impianto Line Array della Bose, che, devo dire, è veramente spettacolare come resa sonora. È, secondo me, la novità più interessante proposta quest'anno. Ovviamente qui si tratta di impianti per megaconcerti, megastrutture, insomma, una roba per service che fanno ospiti importanti o festival importanti. Però comunque è stato veramente un piacere da sentire e potete scorrere via alcune immagini per quello che può essere la resa fatta dal telefono. In generale, è una fiera soprattutto per le addette ai lavori. Manca un po' di pubblico, di appassionati. Forse, in parte, è dovuto anche a ciò che sono gli accorsi, quando, come dire, oltre al Mir, c'era il MIF, il Music Inside Festival, che però non ha avuto un grande apporto di pubblico per quelli che erano i nuovi presenti, tutta una serie di artisti importanti nel panorama tecno-elettronico internazionale. In conseguenza, è soprattutto un appuntamento importante per il networking, per chi deve stringere accordi con le aziende, per chi deve farsi delle forniture di prodotti e per chi magari vuole conoscere delle persone con cui ha avuto soltanto dei contatti via internet o magari valutare eventuali sponsorizzazioni. Dopo aver fatto l'annuncio sulla pagina, è stata quindi un'occasione interessante per incontrare le persone con cui ha avuto qualche scambio sul canale o potevano apprezzare i miei video. In generale, comunque, sono un canale per rimanere aggiornato su quello che è lo stato dell'arte, delle nuove attrezzature, anche perché sono le tendenze e anche, insomma, dove si stanno direzionando i vari mercati. Fate sapere cosa ne pensi nei commenti e continuate a seguirmi su Essere DJ Oggi.